Ciao, ti è mai capitato di riascoltare la registrazione di un tuo concerto e renderti conto che c'è qualcosa che non va nel groove? Forse stai commettendo questi tre errori? Ciao, sono Ruggero Pazzaglia, il fondatore di The Drum Booster, strumenti per il batterista intelligente. E se ancora non ti sei iscritto al canale YouTube o non hai messo like alla pagina Facebook di The Drum Booster, non è troppo tardi, puoi farlo adesso cliccando sul pulsante rosso iscriviti e attivando la campanella per le notifiche e mettendo like sulla pagina Facebook, così rimarremo sempre in contatto e sarai sempre aggiornato su ogni novità che pubblico. Se quando riascolti la registrazione di un tuo concerto ti rendi conto appunto che questo tuo groove non rotola bene, non gira, c'è qualcosa che non va, prova a fare un check di questi tre elementi che ti vado a delencare in questo video. Magari sono proprio questi tre errori che commetti e siccome sono errori fondamentali da non commettere ne basta solo uno per rovinare tutto il groove. Ok? Partiamo da un groove molto semplice che avrai suonato anche tu centinaia di migliaia di volte ed è questo. Semplice no? Semplice ma farlo girare bene non è poi così semplice come sembra. Andiamo a vedere quali sono gli elementi che costituiscono questo groove. Sono tre, giusto? Sono il charleston, il rullante e la cassa. Partiamo dal charleston perché secondo me il charleston in questo tipo di groove è lo strumento che fa da guida anche agli altri arti. Perché fa da guida anche agli altri arti? Perché sul charleston tu suoni tutti gli ottavi, ok? E questi ottavi cosa esprimo? Esprimono sia il battere, quindi i numeri, i movimenti e la battuta, cioè il beat del metronomo, la pulsazione del tempo, ma anche la nota in mezzo che c'è fra un quarto e l'altro che è quella che stabilisce la suddivisione, cioè se il tempo è binario o ternario per esempio. In questo caso è binario perché io vado a suonare l'ottavo proprio in mezzo fra un quarto e l'altro. Quindi solo questo strumento mi dà già tutte queste informazioni. Ora, se l'esecuzione di questi ottavi sul charleston non è fluida, intendo dire che ogni tanto magari si inciampa, come in questo caso. Ho reso l'idea, ogni tanto c'è come una frenata, un'accelerata, una frenata, un'accelerata. È come se stessi guidando un'auto e non si capisce cosa fai con l'acceleratore e il freno. Questa cosa rovina in maniera definitiva il groove. Per cui la cosa più importante da fare in questo caso è cercare di suonare questi ottavi il più regolari possibili, cioè le note devono essere equidistanti. Siccome il charleston è l'elemento guida, se non è costante lui, tutti gli altri arti che si allineeranno a lui di conseguenza andranno via storti. Quindi, molto importante, l'esecuzione fluida di questi ottavi e per farlo devi ripetere migliaia di volte questo movimento sul tuo strumento, sul tuo charleston, che sia qui o che sia qua, in modo che tu acquisisca la cosiddetta memoria motoria, perché poi devi aggiungere anche gli altri arti, senza contare tutto quello che devi fare, pensare, ascoltare, mentre suoni una canzone. Per cui ripeti tante e tante volte questo movimento fino a che non ti viene proprio naturale, fluido, non ci devi proprio pensare. Mentre ripeti le tue migliaia di volte questo movimento, non pensare alla spesa, alle bollette o a chissà cosa. Prova ad ascoltare cosa ti dice il corpo, cioè quando la bacchetta tocca il charleston, che cosa ti trasmette la bacchetta? Alle dita, al polso, alla mano, all'avambraccio, su fino alla spalla. Devi sentire la vibrazione che arriva dal colpo e anche da tutto il gesto che fai, i muscoli che si muovono per ottenere questo movimento. Quindi devi fare molta attenzione a questo aspetto, perché è molto importante. Cerca di pensarci e per fare questa cosa bene devi ripeterlo tante volte, come se andassi in una sorta di trance, ok? Mentre fai questi ottavi. Vedrai che il tuo cervello comincerà a far caso a quali muscoli sono in tensione e quali no e cercherai ovviamente di trovare il massimo relax, perché il nostro corpo funziona bene solo quando è rilassato, quando i muscoli sono in relax. Se c'è tensione avverrà esattamente quello che ti dicevo prima, l'ondeggiamento. Secondo elemento di cui tenere conto sempre con il charleston, la dinamica, cioè come tocco il charleston una volta messo a posto la costanza ritmica. E ho quattro possibilità, giusto? Posso suonare questi ottavi senza nessun accento, con l'accento sui quarti in battere, con l'accento sugli ottavi in levare, accentando tutti e otto gli ottavi. Ora ti faccio un esempio di due battute, ognuno dello stesso groove, cambiando il disegno del charleston. Parto dal non accentato, accentato in battere, in levare tutti i accenti. Hai notato quanta differenza c'è fra un tipo di accentazione e un altro? Perché è importante saper fare tutti questi tipi di accentazioni? Perché a seconda del velocità del brano e arrangiamento del brano, tu dovrai scegliere quale usare. Non devi scegliere quella che ti viene più comoda a te, devi scegliere quella che funziona meglio per il brano che stai suonando. Per esempio, se il brano è molto lento, non so quanto sia conveniente appoggiarsi così tanto con gli accenti in battere, perché inchioda ancora di più il groove a terra. Magari potresti valutare l'ipotesi di suonare l'up beat, cioè il charlie con l'accento in levare, o su tutti gli accenti in modo che ci sia sia il battere che il levare. Quindi l'importante è che ci sia quello in levare. Questo accento in levare dà una spinta in avanti, tiene su il cosiddetto il groove. Se invece il pezzo è molto veloce, sarà il contrario. fare un accento in levare quando il pezzo diventa, sembra un brano ska quando magari l'arrangiamento non è ska. Per cui questo tipo di scelta condiziona il tipo di groove che tu fai e come gira tutto il pezzo. Per cui ascolta bene, oltre al BPM, cosa fanno gli altri strumenti e a tuo gusto, a tuo giudizio, metti il disegno di Charleston che secondo te funziona meglio. Terzo ed ultimo errore da non fare è il disallineamento degli arti, cioè il non curare l'allineamento degli arti e con allineamento intendo gli unisoni che vengono suonati fra cassa rullante con il Charleston che suona tutti gli ottavi. Ti faccio un esempio di questo groove con un allineamento piuttosto scarso degli arti. Ops, capisci bene che un'esecuzione del genere, anche se io ho un po' esagerato, ma bastano dei piccoli disallineamenti, anche se fossero uno ogni tanto, che rovinano l'organicità del groove, il flusso, perché sono cose all'improvviso che arrivano così che non sono belle all'orecchio dell'ascoltatore e quindi distruggono il groove che stai facendo. Cura l'unisono, cioè quando la cassa e il Charleston vanno assieme, devono essere assieme. Chi comanda, ricordati, comanda il Charleston, non far comandare la cassa, comanda lui. E lo stesso il colpo di rullante, deve avvenire insieme al Charleston, ma quando va giù il Charleston, non quando va giù il rullante, ok? Chi comanda è sempre lui. E adesso, per te che sei arrivato fino in fondo a questo video, c'è un quarto elemento bonus di cui ti voglio parlare, che è molto importante e mi riferisco al suono del tuo strumento. E per essere più precisi, mi riferisco al suono che tu dai al tuo strumento, cioè come lo accordi tu lo strumento e come lo tocchi tu lo strumento, come scegli tu lo strumento, ok? Se il suono del rullante è brutto o la cassa è sgonfia oppure troppo tirata per il tipo di genere musicale che stai suonando, il Charleston è talmente sferragliante che ti taglia i denti con le frequenze alte. Ecco, anche se tutti i tre elementi di prima ce li hai a posto, il suono è brutto e il groove è brutto, ok? Quindi è più questo quarto elemento una questione di orecchio, non più meccanica allineamento degli arti o esecuzione degli accenti, è più una questione di essere piacevole all'orecchio di chi ascolta. Il primo che ascolta, ovviamente, sei tu. Questa è una caratteristica tua unica, solo tu tocchi il tuo strumento in quel modo, chiunque altro ci si siede, anche usando le stesse bacchette, non lo tocca come lo tocchi tu. Per cui il suono che esce è diverso. Quindi ricapitolando, prima di chiudere, i tre errori fondamentali più uno da non commettere sono, uno, la scarsa fluidità dell'esecuzione del pattern del Charleston, quello che praticamente comanda tutto il groove, quello che tiene insieme tutto il groove. Due, il tipo di accentazione che tu dai al Charleston fa sì che il groove giri in un modo piuttosto che in un altro. Tre, il disallineamento degli arti, cioè gli unisoni che esprimi quando suoni insieme al Charleston, che suona sempre su tutti gli ottavi, i colpi di cassa e i colpi di rullanti. E il quarto elemento bonus che ti ho dato alla fine è l'accordatura. Accorda lo strumento bene, fai attenzione a che strumento scegli quando lo vai ad acquistare, provalo, ovviamente, prova ad accordarlo in modi diversi. Se al tuo orecchio suona bene per quello che devi fare tu, ok, puoi prenderlo, altrimenti, ce ne sono tanti, cambia. Se pensi che questo video ti sia stato d'aiuto e che sia stato interessante, scrivi un commento qui sotto e, inoltre, se credi che possa essere d'aiuto anche per qualche tuo amico o collega, condividilo sui tuoi social o segnalaglielo. Aiutare gli altri ci fa crescere, tutti quanti. Io ti saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Grazie!